Musica Ora fammi un video porca puttana eh Prego Ciao Cammina Ciao Perché vai la ghigliottina figlio mio bello Si dottore Vieni qua Cominciai tu a fare la pulizia dei dendi a Gianluca Ma veramente io non sono molto pratica Beh che significa il figlio è mio Dottore io non l'ho mai fatto sinceramente avrei un po' di paura Ma come? Ma quale paura è facile Gianluca poi è tanto buono Vieni che ti insegno io che era Ecco passa di qua che era E' lo stesso vedi questo è uno strumento sensibilissimo Non è sto Ma papà Zitto zitto Prenda gli occhi piuttosto Perché quella è quella che ti sta curando In volta in volta No? Va bene così dottore A gombie vele Prego Questo è il sistema di frango forte Condatto diretto Fra paziente Sarebbe il nesco contro la tetta E la Chi più ce n'ha più ce n'ha Fatto vedi Qui c'è più arancio Voglio fare Prendi questo che è meglio Facciamo così E questo a te Sì Questo a te E questo lo prendo io Bevi bevi E bevi Sei giovane no? Bevi 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 Che